Salve a tutti ragazzi, qui TTT e benvenuti in questo nuovo video di Dokkan Battle Finalmente siamo pronti a fare un po' di summon su Merged Zamas Andremo a fare due video ragazzi, quindi 250 stone e poi 250 stone Detto questo, partiamo subito, abbiamo già trovato Vegito Blu, ma vabbè, quello è stato nella live, è stata una sculata Detto questo ragazzi, andiamo subito, summon, siamo pronti, Merged Zamas Eccolo qua, allora, iniziamo subito, intanto andiamo a vedere con lo scouter Ovviamente sappiamo che c'è Vegito Blu, ovviamente c'è anche questo Super Saiyan Trunks Future Che è una carta buonissima e che se la trovo sarei molto felice Però sarebbe un odio allo stesso tempo perché gli dovrei farmare l'SA Detto questo, poi c'è Merged Zamasu, Fusion Zamasu, vabbè lasciamo perdere Poi abbiamo Super Saiyan God Blu Vegito E poi una sfilza di Trunks Infiniti Detto questo, partiamo con la prima, subito, andiamo a vedere un po' chi cacchio becchiamo Sono già pronto Ok, uh, 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 tante navicelle È un buon segno release Va al Super Saiyan, va bene Vediamo Ok, Super Saiyan 2 Niente Super Saiyan 3, non è un problema Non è un problema, ci sono tante stone Non c'è problema C18, SR, STR, vabbè Levati delle balle Un'altra C18 Vedo che C18, come al solito, è qua a romperci i coglioni, ragazzi Ok, Trunks, Int, se non mi sbaglio Sì, eccolo Int, ok C19, vabbè, l'inutilità Poi, chi cacchio sei? Oh, oh, ok, ok, mi ricordo, non mi ricordo mai il nome Master Shen, sì, vabbè, è di Dragon Ball normale La prima serie Frieza Ciao, Frieza Per ora nessun SSR Il peggior vegeta di tutto il gioco Mamma mia, che carta brutta Mamma mia Buccolo Ritorna sempre Lui c'è sempre a romperci i coglioni Ok, l'amico di Bardak Vabbè, chi se ne frega Ok, non mi viene mai il nome Bojack, vabbè, inutile Prima siamo niente SSR Che palle, che brutta roba Va bene Andiamo con la prossima Andiamo con la prossima Non è un problema Vediamo chi ci becchiamo ora Solo due Super Saiyan, subito Ok, carino Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Niente Super Saiyan 3 Va bene Siamo pronti, ragazzi Fidel Inutile Nappa Inutile Piccolo No, è Nail No, no, è piccolo Ok Ok Il gioco Ovviamente gioco Vabbè, può tornare utile Se non mi sbaglio È quello che stunna tutti No, no È quello Tech Mi sa che stunna tutti Vegeta GT Vabbè Può stare qui Attenzione Chi cacchio sei? Ah, Videl Ovviamente Un'altra più brutta dell'altra Chi sei? Uh, il primo Trunks Il primo Trunks SR Cell Anche lui Può elevarti Chi cacchio sei? Ancora Ok Tre Videl In una sola summon Che bello Freeza Ok Prossima Niente, è già finito? Mamma mia Due summon bruttissime, ragazzi Andiamo per la terza Andiamo per la terza Vediamo chi ci becchiamo, ragazzi Ok Ok, ok, ok Tante navicelle È un buon segno Potrebbe essere By Guys Potrebbe essere By Guys, ragazzi By Guys Chiamato Ed è arrivato Attenzione Questa è quella buona Questa è probabilmente Quella buona Videl Ok Dodoria Levati dalle balle Non sai la carta Dodoria Levati dalle balle Due volte di fila Dodoria Giant Tape Kid Goku Ok Fisico Goku Youth Giant Tape Ok Non Vabbè Mai vista in vita mia Questa carta Non so nemmeno com'è Scrivetemelo nei commenti Perché sinceramente Non l'ho mai vista So che però Non si può neanche usare Nell'evento Della Del rabbit Del coniglio Quindi Vabbè Oceanus Eccolo qua Andiamo subito A fidarlo dentro Al mio oceanus Primo o poi Arriverà S10 Frieza Poi Dodoria Di nuovo Che palle Dodoria Trunks Int No è Gotenx Ok Goten Goten Tech Ok Paragus Madonna Va bene Ci siamo Va bene Ok Andiamo Andiamo per la prossima Ragazzi Andiamo per la prossima Ok ragazzi Ci siamo Prossima Prossima summon Speriamo in bene Ragazzi C'è solo uscito Un ssr Per ora E non era neanche Quello che volevo Attenzione Mister satan Lì mi piace Eh però se ti trasformi In super saiyan Non mi piace più Vai almeno Super saiyan 3 Niente in super saiyan 3 Va bene Vabbè Non è un problema Vegito è comparso In questo modo Ok Iniziamo con guldo Poi Ok Butenx Ne ho già troppi Bullmint Abbiamo Trunks Stavolta Ok Trunks Int Prossima Oddio Che brutto Gohan Va bene Via via Dalla mia vista Gohan Krillie Eccolo qua Finalmente Un Krillie Lo dovevano trovare Ok Chi cacchio sei C16 Va bene C16 Amen Cell Di nuovo Che palle Trunks Int Vai così Piccolo Prossima Finito Wow Ok Ragazzi Andiamo Per L'ultima Summon Andiamo per L'ultima Summon Multi Summon Andiamo 50 stone Vai così Con calma Facciamolo Speriamo Ok 4 navicelle Super saiyan Subito Super saiyan Subito Trasformati in Super saiyan 3 Dammelo Super saiyan 1 Forse Ok E' il troll E' il troll Praticamente Va bene Super saiyan Subito Ok Androide C17 Chi cacchio sei Yamcha Ok Yamcha Ovviamente C18 E' la quinta E' la quinta Se non sbaglio Eh Vabbè Chi sei Ah Giniu Vabbè Amen Prossima carta Chi diavolo sei Oh Greg Simon Oddio Chi sei tu Oh piccolo Ancora Quanti piccoli C17 No C18 Ci sono Usciti Dodoria E Giniu di nuovo Che palle Bardak SR Ok Ah no E' quello con 50 Ah va bene No Ok Capito Non mi ricordo Credo che ci sia un Bardak buono Forse è quello Tech però Forse è quello Tech ragazzi Va bene ragazzi Direi che per questo video È tutto Come sempre Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Vi ricordo anche di seguirmi Sulla pagina Facebook E sul profilo Instagram Tutti i link sono in descrizione Detto questo Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi